Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Anno nuovo, vita nuova per Ande Ercel, che segue questo detto alla lettera. L'attrice di talento ha intrapreso una nuova strada, lasciandosi alle spalle il personaggio di Leila Jediz nella serie tv Bambas Kabiri, in cui ha recitato con Burak Deniz nel primo episodio del 2024. Pochi giorni fa, Ande Ercel ha dichiarato chiaramente di voler continuare la sua carriera in altri rami dell'arte oltre alla recitazione, con la foto che ha condiviso sui social media con la tessera ricevuta dalla Mimar Sinan Fine Arts University. Ha continuato i suoi studi l'anno scorso. Questo dettaglio, che rivela la vicinanza dell'attore alla sua laurea in Belle Arti, si aggiunge agli hobby che ha condiviso sul suo account Instagram nelle ultime settimane. In vari documenti, Ande Ercel viene vista visitare il Museo di Arte Contemporanea, così come il negozio di artigianato artistico Quattro Atelier, dove crea diverse creazioni, dai disegni di materiali ai dipinti e al macramè. Ande Ercel ha condiviso una nuova cornice fotografica dei primi giorni del 2024 nella sua ultima trasmissione. Lì, l'ex amante di Kerem Bursin è stato visto nel suo atelier di fiducia e il suo guardaroba era decorato con lo stile più elegante. Ha esposto il suo repertorio. Si avvicina una nuova fase per la stella turca?